Sì, è stata una vittoria importantissima, fondamentale, in più vincere è fondamentale, in più oggi i risultati ci sono girati anche bene perché anche il Carpi ha perso, quindi è un doppio risultato. Il 20% che lo sappiamo perché a fine partita abbiamo vinto, ma abbiamo capito che abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna dove abbiamo avuto un po' un blackout, però c'è stato, ma ci prendiamo i tre punti che alla fine valgono lo stesso. Non è stato un'altra vittoria, i meccanismi non lo facevano, ma non lo avevano fatto, perché se lo dedicavano qualcosa, non è cambiato, ma non è un'altra vittoria personale come questo, esce uno, tre campi di disegnamento, porta la proposta, quindi lì siamo riscontrati, non c'era più quello, il sincronismo che c'era, la palla arrivava doveva arrivare, e lo avevamo finito, inizio è che lo scelto che non si lascia più. Sì, sì, no, ma i giocatori, non c'entra il cambio dei giocatori perché comunque abbiamo dimostrato da inizio anno che chi gioca, abbiamo giocato tutti, abbiamo arrotato tantissimo, chi gioca ha sempre giocato benissimo, sempre con gli stessi concetti. No, no, con gli stessi, dico con gli stessi concetti che abbiamo, e poi ovvio cambiano le caratteristiche del giocatore, ma il concetto, l'idea che abbiamo è sempre quella. In una partita, in un'altra partita, abbiamo avuto, siamo un po' calati perché magari uno la condizione fisica neanche tanto, però ci sono un po' di eventi durante la partita che possono un attimo dopo il rigore, ti prendi un po' paura e quindi un attimo, se un pelo ho più di paura perché mancano dieci minuti rispetto al primo tempo, di poter pareggiare la partita, però è comunque positivo il risultato. Bene, guarda, ti rispondo benissimo a tutte e due le cose, adesso a livello fisico ho avuto un girone d'andata un po' travagliato, però adesso fortunatamente ci sono e a livello di squadra, d'ambiente e di tutto mi sto trovando veramente bene qua a Forlì. Grazie.